Bella a tutti ragazzi, qui il Bioscray che vi parla oggi Ragazzi, sono le due di notte e guardate cosa ho visto Ci sono i pacchetti da 100.000 In the end of the year, ragazzi Andremo ad aprire questo pacchetto da 100.000 insieme, ragazzi Sono le due di notte, spero di trovare qualcuno Vediamo, ti prego, ti prego Piqué, cazzo, Cavani, Kyle, Piqué, Ramsey Porca miseria, ragazzi, che schifo Che schifo, non ci posso credere Allora, mettiamo magari Piqué al mercato che non si sa mai Ci mettiamo anche Cavani Ok, anche lui E via Io ci metto anche Gunnard, perché non si sa mai Ok, tutto questo lo scartiamo Ok, ragazzi, apriamo il secondo e ultimo pacchetto Come potete vedere, mi mancano gli ultimi 2.000 FIFA Points Non li uso poi per gli attaccanti Chi se ne frega, voglio i centrocampisti Ultimo pacchetto Non è possibile Non è possibile Che schifo, ragazzi, guardate che merda Mamma, che schifo, non ci posso credere Questo non può servirmi perché è olandese, ma Vabbè, questo ce lo deniamo Mamma, ragazzi, guardate che merda Via, tutto scartato E quindi, ragazzi, mi rimane Vediamo se mi... 35.000 Dai, proviamoci questo 35.000 Vediamo Magari mi trovo qualcosa qua, ma non penso proprio Vediamo un attimo Che dire Ma porca di quella grandissima puttana Non c'è un cazzo, ragazzi Non si trova un cazzo Non si trova un cazzo di niente Noi ci prendiamo Questo Anche questo non può sempre servire Tanto ogni gatto fa casino Ragazzi, guardate che merda Cioè, non ci posso credere Che dire Magari può valere qualcosa Noi lo mettiamo Via Facciamo così Vediamo Questo da 300 Dai, dai, tanto ormai Se li usiamo tutti 300 few points, ragazzi Tanto non troveremo mai un cazzo Da 15.000 Non si trova un cazzo Madonna, mi stavo già prendendo male Messi, magari, però no Neanche Che cazzo Mi so Un Un Tevez Già, andava bene Niente, 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 ragazzi Non Non ce la fa FIFA non ce la fa più Apriamo l'ultimo pacchetto da 15.000 Che ci sono avanzati Vediamo Non si sa mai Speriamo Porca di quella Eva Niente, niente No, no, no Non ce la fa Benatia Benatia Questa Si può pure tutto scartare Vediamo se qua In fondo c'è qualcosa Niente, niente Scartiamo tutto E vaffanculo Niente ragazzi Questo era Il pacco opening Delle due Due pacchetti da 100.000 Ragazzi L'abbiamo trovato Un cazzo E niente ragazzi Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Lasciate like Per questo piccolo Spaccettamento In pigiama style Alle due di notte Niente ragazzi Don't worry Be happy Spaccettamento Spaccettamento